8 persone su 10 sono gli abitanti del corno d'Africa che vivono di agricoltura. Da più di un anno non piove, quasi 15 milioni di persone hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di noi. Per aiutarle basta un piccolo gesto, manda un sms o telefonata al numero di rete fissa 45503 e donerai 2 euro.